Nuova udienza sulle presunte irregolarità sui conti del Comune di Catania durante l'amministrazione Stancanelli che vede imputati, oltre all'ex sindaco di Catania, il dimissionario sindaco di Giara Roberto Bonaccorsi, al tempo vice sindaco a Catania e numerosi funzionari comunali. La procura etnea ha richiesto il rinvio a giudizio per sette fra ex amministratori e dirigenti del Comune di Catania in carica dal 2009 al 2011 con l'ipotesi di accusa di falso nella formazione del rendiconto di bilancio del Comune di Catania negli anni 2009, 2010 e 2011. Il dibattimento ha avuto la durata di poco più di 10 minuti ed è stato rinviato al 25 maggio prossimo, allora quando il giudice ha accolto la richiesta avanzata dalla difesa di uno degli imputati, Giorgio Santanucito, che ha chiesto tempo per approfondire la contradduzione della procura su una perizia riguardante Santanucito. Da qui dunque la decisione del rinvio al prossimo maggio, ricordiamo che gli imputati al processo sono l'ex sindaco di Catania, Raffaele Stancanelli, gli ex assessori al bilancio, Roberto Bonaccorsi, come dicevamo, ormai anche ex sindaco di Giarre e Gaetano Riva, in carico nella prima giunta a Stancanelli e inoltre il responsabile della ragioneria generale del Comune di Catania al momento dei fatti, Giorgio Santanucito, oggi direttore generale dell'ospedale Garibaldi di Catania e i dirigenti comunali Alessandro Mangani, all'epoca comandante del Corpo della Polizia Municipale e Pietro Belfiore, attuale comandante dei vigili urbani a Catania e sotto la sindacatura Stancanelli per un anno anche direttore della ragioneria e infine Biagio Lipera, direttore delle attività produttive. Il professore Giovanni Grasso, difensore del dottor Santanucito, ha già scelto il rito abbreviato per il suo assistito.